C'è il piacere di leggervi un brano, l'incipit tratto dal repertorio dei matti della città di Roma. È un libro di Paolo Nori, collezionato da lui, editore Marcos in Marcos. A Ponte Miglio c'era certa gente che andava in giro a attaccare Lucchetti a un palo. A Prati abitava uno che tutti i giorni telefonava alla RAI per lamentarsi del palinsesto, per chiedere delucidazioni sui film in uscita e per consigliarne lui stesso degli altri. Ci teneva a specificare che lui il canone lo pagava sempre, che però avrebbe voluto vedere più spesso Pippo Baudo. Attorno a Piazzare di Roma passeggiava spesso un uomo sulla settantina, vestito con elegantissimi completi stile anni trenta. Ogni giorno ne indossava uno diverso con cappello, giacca, gilet e persino ghette, tutto in coordinato, tutti sgargianti, con tonalità che alternavano tinte pastello a varianti più eccentriche del blu, del verde e del rosa. Durante le sue passeggiate era solito fermarsi all'improvviso, come se avesse raggiunto la passerella, mettersi in posa con una mano in tasca, estrarre un cellulare, guardare rapidamente lo schermo e subito dopo, con estrema naturalezza, riprendere la sua sfilata in direzione di luoghi che forse a nessuno era dato sapere. Uno era un autista dell'autobus 62. Quando arrivava alla notte, alla fine della corsa al capolinea di piazza Bologna, scriveva sul suo display Gotham City. Una la chiamavano la signora Cemme che presti. Alla maglia ne ricordavano come quella che bussava alle porte di tutti e chiedeva sempre qualcosa in prestito. Una volta ha bussato alla porta e ha chiesto che me presteressi una bistecca ben cotta. Uno disegna cuori con la schiuma sul cruscotto delle automobili, fa il lavavetri, gli automobilisti lo mandano sempre a quel paese. C'era una che passeggiava per il centro, mandava bacetti a tutti gli uomini che passavano. Uno con una penna sempre in bocca si fa sempre vedere a Montecitorio quando si accendono le telecamere, ma non fa niente, sta solo dietro i politici che parlano, con una penna in bocca, lo fa da 12 anni, fino a oggi ha fatto 38.000 apparizioni. Si chiama Mauro, il disturbatore che non disturba. Uno su una cassetta delle lettere al trullo ha messo un cartello. Tra mail, whatsapp e sms, le mie prospettive non so più le stesse, mi sembra un'anziana un po' rimbambita che in mezzo alla strada osserva la vita, la vita che ormai mi ha messo da parte insieme all'inchiostro con le sue carte. Servo soltanto per mettere alle strette intere famiglie con morte e bollette. Non c'ho cartoline di viaggi in Australia, ma lettere infami, firmate Equitalia. Era il repertorio dei matti della città di Roma, un curioso incipit del libro. Grazie.